Settima corsa, premio rinascita, la prova principale del convegno di oggi, un miglio per i quattro anni, sono nove al via. Prima fila per Ulisse Mar, Utopia Luis con Giuseppe Pietro Maisto in sostituzione e Roberto Vecchione. Urlo di Poggio, ultima luna Grifo, Foggius S.M., Uragano Stecca, Uragano Star. Seconda fila per Upper Deni e Umberto Axe. Dal centro dello schieramento provano ad emergere Ufogius S.M. e soprattutto Uragano Stecca che sorprende tutti e va a condurre. All'esterno c'è Uragano Star, poi Ulisse Mar che è in fuori Urlo di Poggio. Dalla seconda fila a Upper Deni. Ma è in vantaggio netto, Uragano Stecca nei confronti di Ufogius S.M., Uragano Star che avanza all'esterno, poi Ulisse Mar che è in fuori Urlo di Poggio. Ancora la pariglia composta da Upper Deni e ultima luna Grifo. A precedere un'ultima pariglia composta da Utopia Luis e Umberto Axe dietro al veloce leader Uragano Stecca che prosegue in avanti a ritmo sostenuto, tanto da completare i 600 iniziali in 43 scarso. Dietro Uragano Stecca è sempre Ufogius S.M. con all'esterno Uragano Star, quindi Ulisse Mar che è in fuori Urlo di Poggio. Poi Upper Deni e ultima luna Grifo a chiudere Utopia Luis e Umberto Axe. Situazione tattica che al momento non cambia perché Uragano Stecca continua a fare andatura notevole a mantenersi in vantaggio. Andiamo a cogliere il parziale per il primo chilometro che è addirittura in 1.12 e mezzo per Uragano Stecca. Ma Uragano Star con gran coraggio insiste all'esterno avendo all'interno Ufogius S.M. e nella scia Urlo di Poggio. Ora Uragano Stecca viene avvicinato da Uragano Star, poi Ufogius S.M. sbaglia Urlo di Poggio liberando la destra ad Ulisse Mar. La retta d'arrivo vede Uragano Stecca ancora in vantaggio ma avvicinato da Uragano Star. Poi Uragano Stecca che sposta all'esterno, quindi Ufogius S.M. e Upper Deni, Uragano Stecca che va su Uragano Stecca e passa ma deve guardarsi da Uragano Stecca e Upper Deni. Poi Ufogius S.M. Uragano Stecca in vantaggio attaccato da Uragano Stecca. Insiste, lo attacca, lo rimonta, passa, vince Ulisse Mar su Uragano Stecca per il terzo. Upper Deni probabilmente batte Ufogius S.M. Corsa venuta davvero a puntino a Ulisse Mar che comunque si è espresso sul mio cronometro in 1.55.8 che significa media di 1.12.6-12.7 per il figlio di S.J.S.Foto con Alessandro Gocciadoro, Uragano Stecca strepitoso anche oggi. Di fuori scoperto dal primo metro e battuto solo nei pressi del palo. Upper Deni al terzo su Ufogius S.M. 1.78 l'arrivo ufficioso della settima di Capannella. Grazie. 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 Grazie.